Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsiccia con piselli patate e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Ingredienti sono salsiccia tagliata a pezzetti, piselli patate tagliate a cubetti, carote tagliate a cubetti, vino bianco, olio evo, cipolla, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le carote, i piselli, l'acqua che deve essere calda, il prezzemolo, la noce moscata, il sale, e il pepe. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco e senza misurino cuocere per 3 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Aggiungere la salsiccia. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma con le patate. Chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Le patate sono cotte, trasferire in una pirofila capiente. Anche la salsiccia è cotta, trasferire nella pirofila con le patate e servire. Salsiccia con piselli, patate e carote. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti